Dove ce ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'oltrepoppavese Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici E poi, pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3 E se vieni proprio stasera c'è una sorpresa per te Massima allerta anche in Italia per i rischi attentati Hollan richiede leggi speciali per avere più potere di indagine e controllo Più potere alle polizie, meno privacy ai cittadini Qualcuno propone controlli su telefonate, email e su ogni nostro spostamento Lei metterebbe in gioco una parte della sua libertà per avere maggiori controlli? Sì, sicuramente Abbiamo tutti paura, di conseguenza, soprattutto chi ha dei ragazzi che viaggiano, che sono in giro nel mondo Io sì, sicuramente Non ho niente da nascondere di particolare, quindi non mi interessa Qualcuno dice che basterebbe applicare le regole già esistenti Secondo lei sono sufficienti o servono di nuove? Probabilmente, probabilmente Magari non hanno usufruito di tutte le potenzialità che avevano Perché se questo di cui stanno cercando tutti ha girato nelle frontiere senza Vuol dire che o è molto bravo o c'è qualcun altro che non ha controllato Però io sono tornata da poco, ho fatto un viaggio Mi hanno perquisito, mi hanno guardato le mani Tra le altre cose con un apparecchio che non sapevo neanche che esistesse Ma io non mi sento così a disagio se mi chiedono queste cose Quindi per me va bene Secondo lei siamo di più disposti ad accettare questo tipo di libertà Per il fatto che ci sono stati questi eventi, questi attacchi terroristici O l'avremmo accettato tranquillamente anche prima? No, ma secondo me anche prima forse Sì, è logico, adesso forse abbiamo più paura E quindi sì, magari sì, però secondo me anche prima Sì, allora secondo me si può sacrificare una parte della nostra libertà per la sicurezza Insomma, lo ritengo più importante Secondo alcuni basta applicare le regole già esistenti Quindi secondo te sono sufficienti o servono di nuove? Ma penso che evidentemente non siano sufficienti proprio per gli attentati Per esempio il Ministro Alfano ha affermato che il fatto che abbiamo in Italia Insomma non c'è ancora stato nessun, fino ad ora, fortunatamente nessun attentato E anche grazie a delle leggi speciali che abbiamo Anche per la questione che in Italia c'è sempre stata la mafia Quindi c'è stato un sistema di sicurezza più consolidato Secondo te questo è il caso o semplicemente? Beh, allora se in Italia non ci sono stati attentati Probabilmente funziona la legge che abbiamo, anche se non me ne intendo Sei convinto di come stiano funzionando le forze dell'ordine fino ad oggi E degli eventuali aumenti che si siano stati anche a Roma o a Milano? Ma in realtà sì, perché anche se è facile lamentarsi non è ancora successo niente Quindi probabilmente sono sufficienti le misure di sicurezza che abbiamo Di fiducia nel nostro governo in questo caso? Certo Sì Dobbbero essere più controlli su tutto E su tutti E che sarebbe meglio Anche perché la sicurezza è importante Anche più potere alle forze dell'ordine E sarebbe molto meglio che ci fosse dei controlli Di gran controlli Almeno la sicurezza è importante per il cittadino Qualcuno dice che basterebbe applicare le regole già esistenti Quindi secondo lei possono essere sufficienti o meno? Intanto applichiamo quelle che ci sono Ne aggiungiamo altre che ben venga È possibile che anche comunque andare a limitare la nostra libertà Possa tra virgolette essere controproducente Quindi essere usata non necessariamente a nostro favore ma contro? Ma se è un beneficio che viene a favore di tutti E' giusto che ci sia anche dei controlli di tutto E' giusto che ci sia anche dei controlli di tutto